Buongiorno e bentornati su gaming galaxy Oggi video speciale per il semplice fatto che è stato confermata l'uscita del distillatore su Red Dead Redemption 2 e ovviamente è uscito di martedì e quindi mi tocca fare il video di corsa per evitare di farlo uscire domenica o lunedì e tutti sanno ovviamente la news Comunque vi ricordo di iscrivervi sempre al canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulla nostra galassia Ce lo stavamo chiedendo in realtà da un po' di tempo in Discord ma con un gioco del genere perché non mettono nuovi ruoli come le diligenze o nuovi commerci? E niente, senza sapere nulla di quello che voleva fare Rockstar ci abbiamo preso In un'America non ancora completamente governata dalla legge fioccano opportunità per i fuorilegge, grandi pianure selvagge nell'attesa che i più ambiziosi ospitati scrivano una nuova pagina della propria storia Questa è l'introduzione che fa Rockstar per il nuovo aggiornamento in arrivo del 31-12 e il nuovo aggiornamento ovviamente comprende un nuovo ruolo Il distillatore Apri la tua attività di contrabbando nell'ambito di questo nuovo ruolo particolarmente adatto a chi sta già seguendo la strada del commerciante O a chi vuole avere una proprietà tutta sua Sblocca abilità uniche e perfeziona i metodi di distillazione Sfugge alla legge e manda in fallimento i rivali Con un po' di fortuna potrassi sopravvivere abbastanza lungo da aprire un tuo locale clandestino Ma come si ottiene il distillatore? Beh, i commercianti che hanno completato una missione di vendita o raggiunto il rango 5 Con l'aiuto di Crips potranno incontrare la famigerata Maggie Fyke a Ranch Emerald Una contrabbandiera esperta che porta i segni del mestiere Maggie conosce le persone giuste e ha le conoscenze per aiutarti a mettere in piedi la tua nuova impresa Bisognerà quindi acquistare la capanna da distillatore e saremo pronti all'iniziale Per i passanti ovviamente la capanna non sarà altra che una normale dimora Mentre nel sottosuolo o nel seminterrato dovremo darci da fare Possedere e gestire un'attività da distillatore è solo ovviamente una parte del ruolo Dovremo ovviamente fare delle missioni con Maggie in solitario o con gli amici Perché a quanto pare lei si dovrà vendicare di persone che hanno provato a farla fuori Ovviamente facendo crescere gli affari impareremo nuove ricette e tecniche Che ci aiuteranno a rendere il nostro moonshine il migliore del paese E per finire e non so qua i server come reggeranno questa cosa Potremo ovviamente aprire il nostro saloon personalizzandolo come più ci pare e piace Inoltre in arrivo sempre il 13 dicembre Oltre a questo nuovo ruolo del fuorilegge Il fuorilegge che... scusatemi del distillatore che sarà tanta roba Avremo il pass per fuorilegge 2 Nuove articoli sbloccabili solo ed esclusivamente per i distillatori Il revolver navi Nuovi capi d'abbigliamento e slot aggiuntivi per gli abiti nel guardaroba Il video è finito Vi ricordo di seguirci su Mixter durante la settimana Trovate il link in descrizione E vi saluto con il solito GG a tutti quanti